Ho vissuto sulla mia pelle questa situazione, quindi capisco che anche il sindaco possa essere in una situazione di disagio, perché credo che al di là della paura che io credo che nessuno di noi abbia avuto, è proprio il percepire questo odio sociale, questo astio che non fa bene alla nostra società.